ragazzi ciao a tutti benvenuti sul mio canale ecco qui oggi volevo mostrarvi questo pc qui è un laptop è un teclast f15 plus 2 e mi sono deciso a questo acquisto per provare questi laptop a basso costo si trova su amazon intorno ai 350 euro a volte in offerta anche 300 e come caratteristiche ha un processore gemini lake che può arrivare al massimo in boot in turbo boost a 2,6 gigahertz 8 giga di ram 256 giga di memoria interna espandibile fino a un terabyte ssd per quanto riguarda questo pc è dichiarato che uno dei più sottili in commercio che ha uno schermo veramente ampio e una batteria che dura fino a 7 8 ore niente ora lo vediamo lo spacchettiamo vediamo cosa contiene il pacco un po con l'unboxing qui ci sono accessori e abbiamo il caricatore le istruzioni del nostro laptop ecco qui caricatore istruzioni servizio cliente quant'altro passiamo alle cose importanti cioè al laptop vera e propria buono questo packaging che per quanto riguarda la spedizione non fa prendere botte al nostro lato sono arrivate queste queste sono delle cover in silicone per la tastiera con layout diversi in quanto questo pc arriva con la tastiera inglese quindi abbiamo la tastiera teresca francese italiana e spagnola se non sbaglio si queste sono cover in silicone sembrano fatte bene ora vediamo anche nell'utilizzo eccolo qui questo è il laptop in questione arriva con le pellicole protettive copre tastiera e pellicola all'interno ok carino molto carino che dire questo è l'unboxing vediamo un po non so se si vede per quanto riguarda la grandezza in effetti non è per niente doppio è molto leggero sta sul chile 70 kg 80 molto molto carino il corpo è in plastica dura anche se c'è scritto in metallo però sembra veramente fatto bene adesso lo andrò a provare e vi dirò cosa ne penso eccoci qui lo utilizzo da una settimana non ho ancora tolto nelle pellicole sul display perché sto aspettando che mi arrivino da amazon le altre nelle pellicole esterne perché me lo voglio tenere bene non voglio raschiarlo vediamolo insieme allora esteticamente è fatto veramente veramente bene ripeto l'utilizzo da una settimana e visivamente e sia a livello tattile è veramente molto bello il materiale con cui creato sembra gommato e satinato e al tatto e ha veramente un bel un bel feedback bello anche il disegno per per le casse bella anche la tastiera ha un buon input il trackpad è veramente fatto bene alle gesture a tutto al di sotto possiamo trovare il marchio teclast il modello certificazioni e quant'altro in più lo slot per la ssd qui se vogliamo sostituire la ssd di casa da 256 giga possiamo inserirne una fino a un terabyte per quanto riguarda il comparto porte fisiche abbiamo da un lato usb 3.0 l'allacciamento alimentazione la mini hdmi con cui possiamo collegarlo a un display esterno la porta usb c ad alta velocità dall'altra parte ingresso per sd card l'attacco delle cuffie 3.5 è un'altra usb qui troviamo di nuovo il marchio per il resto molto compatto abbastanza leggero sarà sul chile 70 si riesce benissimo ad aprire con una mano è nulla adesso vediamo un po come si comporta allora come avevo detto io non ho tolto la pellicola eppure il display è un ips full hd i colori sono vividi in questo momento ho la luminosità al massimo come potete notare si vede veramente veramente bene la tastiera ha un layout di tipo fisico inglese quindi insieme vi danno le cover in silicone con layout in tedesco spagnolo italiano e francese però se volete fare come me io ho acquistato online gli stickers sto aspettando in modo tale da non mettere nulla sulla tastiera altrimenti il feedback con la tastiera in silicone a me non piace quindi una volta che andiamo a mettere degli sticker qui abbiamo risolto i tasti funzionano tutti bene tasti funzione classici per aumentare e diminuire la luminosità aumentare e diminuire il volume pausa fare screenshot e quant'altro trackpad molto molto grande ripeto come ho già detto alle gesture e null'altro vediamo come si comporta a livello di software beh alla fine come va il computer gira veramente molto bene per essere un laptop di questa fascia di prezzo credo che di meglio non si possa trovare lo schermo ora ve lo faccio vedere su youtube risoluzione full hd i colori sono vividi non ha lag quindi ha un'ottima risposta piccolo difetto non so se si riesce a notare dal video l'audio l'audio è nitido si sente bene ma è molto 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 basso infatti se lo dovete usare in giro è meglio che vi portate delle pucce oppure una piccola cassa esterna perché l'audio peccato peccato davvero è l'unico difetto che trovo in questo pc però preferisco l'audio più che non so una scocca che si rompe un touchpad che non funziona una tastiera che si blocca ripeto i colori sono veramente buono il contrasto è ottimo nonostante io abbia ancora la pellicola è però si vede veramente bene allora detto questo l'hardware è abbastanza buono il prezzo è ottimo se volete lavorarci certo non fare rendering non andare magari a scrivere un programma programmare ma se volete lavorarci tranquillamente con outlook pacchetto office ma anche un photoshop va più che bene se volete utilizzarlo per studiare per scuola per università va anche bene se volete utilizzarlo come un user normale quindi social mail scrittura stampa il computer fa il suo dovere e lo fa pure bene la batteria non dura 8 9 ore come dichiarato ma ne dura 4 5 però ad alta luminosità molto stressato quindi magari in eco ci arriva pure la batteria integrata per sostituirla bisognerebbe smontare tutta la scocca non so se si trova sinceramente il cavo in dotazione e anche molto carino perché abbastanza portatile non ha la presa asciuco alla presa europea quindi lo possiamo portare sempre con noi ricaricarlo dove vogliamo il computer non pesa molto le finiture sono fantastiche per questo prezzo è veramente quasi introvabile conclusioni finali avete bisogno di un pc che vi serve un po per un uso comune non serve spendere 56 700 euro questo gira benissimo il processore è un celeron gemini lake 1.1 gigahertz col boost può arrivare a 2.6 quindi tranquillamente vi permette di avere un'esperienza fluida alle gesti la tastiera una volta che c'è attaccati gli sticker va benissimo altre funzioni a parte l'audio che un attimo lo trovo scarno non ha per niente nessun problema molto solido che dire secondo me è un buon acquisto vi lascio il link amazon con cui lo potete avere a 299 euro se non erro perché solitamente lo trovate anche a 3 80 400 euro quindi con 300 euro portarsi a casa un laptop di questo di questo genere è una gran cosa installato windows 10 aggiornamento a windows 11 disponibile io non l'ho ancora fatto ma lo farò a breve i driver e tutto girano benissimo è compatibile al 100 per cento con windows potete installarsi tutti i programmi che altro dirvi se avete domande mi trovate qui e magari mettete un like e vi iscrivete al canale a presto